La prima cosa è, dico, non diventate matti con l'orologio, sicuramente qualche secondo al chilometro l'avete perso, ma tutti. Non sono in una baita di montagna però non so se vi siete appuntati sul vostro registro rigorosamente rosso quali siano gli appuntamenti principali del 2021, siccome però siamo ancora in un periodo di incertezza, chiaramente molti di noi non hanno ancora pianificato. Non sono io il primo a dirlo, ma la preparazione resta uno dei principali cardini dell'anno. Ad inizio anno tutti i podisti e amatori più evoluti preparano quello che andranno ad affrontare durante il corso della stagione. E anche se questo nuovo modo di essere con le zone che cambiano continuamente colore ci deve far comunque restare flessibili, programmare resta comunque importante e secondo me addirittura fondamentale. Proprio per questo prendo spunto da un libro che ha forgiato il mio modo di essere, il mio modo di pensare, l'allenamento. Running Formula di Jack Daniels, arrivato alla terza edizione, uso questo qua perché l'altro è assolutamente molto consumato. Ripeto, forse antiquato, ma se seguite i suoi consigli Jack Daniels non vi porterà le Olimpiadi, ma di sicuro vi consentirà di restare in forma per tutta la stagione. Che cosa ci dice il buon Jack? Sapete che io non do consigli di allenamento, però utilizzo le best practice per suggerire cosa fare durante la stagione. Jack ci racconta fondamentalmente cinque cose. Numero uno, è importante e fondamentale iniziare la stagione in maniera graduale, soprattutto pensando che durante la stagione natalizia molti di noi non si sono allenati e comunque era giusto prendersi una pausa. Sappiate che meno sarete in forma, meno è necessario allenarsi intensamente, anche perché in questo caso è più probabile che la forma ritorni abbastanza rapidamente. C'è sempre un filo sottile tra l'aumento di intensità e il rischio di infortunio, a gennaio secondo me non vale la pena strafare. Numero due, cercate sempre comunque di capire quale gara o quali gare puntare nel 2021, sappiate che non pianificare potrebbe portarvi a non raggiungere l'obiettivo che invece dovreste assolutamente programmare. Visto che le gare cambiano date e vengono annullate in continuazione, vi suggerisco tra l'altro di scaricare l'app App&Run con la quale, link qui sotto, potreste rimanere aggiornati in tempo reale, quasi reale, dei cambiamenti organizzativi e del calendario di gare del 2021. Numero tre, stabilite qual è il vostro livello di forma attuale, sapendo che lo potreste fare utilizzando l'ultimo allenamento di ripetute fatte prima delle vacanze, oppure ancora meglio con un GPS, sapendo però che dovreste in questo caso utilizzare la fascia cardio, con la quale ovviamente la misurazione della frequenza cardiaca è sicuramente più accurata di quella da polso. Altrimenti verrebbe tutto falsato, l'ho spiegato tra l'altro in un articolo di The Run in Pit, specialmente in questa parte della stagione. Numero quattro, Jack chiede in effetti di valutare quali possono essere i luoghi di allenamento a cui potreste accedere l'anno prossimo, sapendo che, e lo chiederò ad Andrea, ci sono delle condizioni che vi possono portare a fare determinate cose piuttosto che altre. Non potreste in effetti correre molto velocemente con la neve, in questo caso sarebbe meglio avere un tapis roulant, non potreste andare velocemente nemmeno di sera, se non correndo probabilmente in pista. Numero cinque, ultima cosa, quanto tempo avete a disposizione, il tempo sappiamo benissimo che è il vero fattore limitante di tutte le cose che vorremmo e potremmo fare. Detto ciò, con oggi inauguriamo una nuova rubrica che dovrebbe avere una cadenza mensile, chiederò al prodepodista come allenarsi nel mese di gennaio e lo farò poi anche nei prossimi mesi. Lasciamo la parola ad Andrea che dal campo di Garbagnate ci racconta le sue perle di saggezza. Ciao Andrea, siamo tornati alla preparazione, sono finite le vacanze, hai mangiato bene durante queste vacanze? Ho fatto la ricostruzione corporea a mio modo, adesso lavorerò per ritornare in forma e fare le prime gare, speriamo di febbraio a marzo. Cosa dici per questo mese di gennaio, come dovremmo allenarci? Allora questo qua è il periodo di potenziamento, sempre di fondo, in un anno normale ci sarebbero state le campestri, noi qua al nord abbiamo la fortuna di avere campacci e cinque mulini, non ci sono ma io continuerei con la stessa programmazione, quindi terrei in settimana degli allenamenti sempre al medio, delle variazioni di ritmo, con i recuperi svelti, quindi poca differenza tra lento e forte, e allenamenti al sabato o alla domenica di potenziamento, che possono essere dei lavori di campestre, oppure lavori in cronoscalate, oppure di collinari che a me non fanno impazzire, oppure di sprint in salita. Come vedi in effetti gli sprint in salita, le ripetute in salita, sono molto utili in questo periodo? Allora io le uso spesso, a dire vero le uso in settimana perché sono comunque un allenamento relativamente veloce da fare, lo tengo in abbinata con un fartlek di solito, prima faccio 30 minuti di fartlek e poi faccio inizialmente 10 salite, fino ad arrivare a 15 salite dopo 3-4 settimane di allenamenti. E per chi si è pesato prima delle vacanze e adesso si è accorto di avere 3 chi in più? La prima cosa, non diventate matti con l'orologio, sicuramente qualche secondo al chilometro l'avete perso, ma tutti, anche se abbiamo continuato ad allenarci, i medi trasformateli in progressivi, quindi se prima facevate il medio a 4 al chilometro, ora magari partite a 4,10 e poi 4,15, e poi cercate di aumentare pian piano, per dire. Sugli sprint di salita fateli tranquillamente, recupero sempre i jogging e tutto il resto, così anche le ripetute lunghe magari partite qualche secondo più lenti per chiuderle, con lo stesso grado di fatica di prima ma con qualche secondo più lenti. A livello di volume cosa raccomandi? Io il volume raccomando sempre tanto, tanto volume, quindi se avete la possibilità incominciate ad allungare i lenti, sempre tenendoli lenti rigeneranti e niente, tanto volume e poca intensità dei lenti. Di quanto incrementeresti il volume per il mese di gennaio? Se supponi per esempio che un podista medio a dicembre abbia corso 300 chilometri, quanto dovrebbe essere quello di gennaio? Ma più che altro guarderei per ogni singola seduta, se siamo sempre sui 10-12 chilometri possiamo aggiungerne due per ogni uscita, per dire. Non guarderei chilometri totali perché oppure aggiungiamo un'uscita in più, oppure aggiungiamo quei due chilometri ad ogni allenamento. Andrea, una delle domande che ci hanno posto è relativa a... Non ci sono gare a gennaio, cosa fare e come sostituirle? Allora, questa assenza di gare ti dirò cada fagiolo perché questo periodo di preparazione vera e propria secondo me le gare andavano un pochino a interrompere la preparazione poi per le gare di febbraio-marzo. Ti dico, mi spiace molto che non ci siano i cross perché li credo molto allenanti, sia mentalmente per la fatica che si fa, sia fisicamente comunque perché sono molto muscolari. Ti direi campestri sicuramente da riproporre, in questo caso invece che i soliti 6 chilometri per i master di allungare, quindi fare dei corti veloci medi a 8-10 chilometri, magari in questo caso guardando la frequenza cardiaca e non il ritmo perché in campestre non si guarda il ritmo, o comunque delle sensazioni di premorte, oppure di fare delle ripetute lunghe dai 1.000 metri in su, quindi 10 volte 1.000, 4-5 volte 2.000, secondo me sono degli allenamenti che poi premieranno più avanti nel corso della stagione. Non ci sono gare, quindi potremmo andare tranquillamente il sabato o la domenica, magari se possiamo spostarci a fare qualche salita sopra i 4 chilometri. Niente di impegnativo, magari meglio sul 6-7% come pendenza, anche l'8% va bene, anche Brunate va bene. Noi abbiamo Brunate che è un posto fantastico, questa salita da 8 chilometri e mezzo al 9% di media, mortale però molto allenante. E soprattutto non ci sono gare come mezzo in maratone, quindi va bene, non le facciamo, però allunghiamo, cerchiamo di allungare i medi a 18 chilometri almeno, arrivare a pensare di fare una domenica magari a fine gennaio da un medio da 18 chilometri. Invece virtual con amici le consiglio oppure no? Guarda, le virtual se avete la testa di farle sicuramente possono servire, magari fatele belle in campestre così sarebbe ancora meglio, vi fate 5-6-7 chilometri oppure 10 chilometri in campestre con le chiudate così quando siete morti e vorreste molare non potete perché avete l'idea che dovete finire la virtual. E invece Tapirulan sì o no? Tapirulan ti dico di no solo perché io non ce l'ho, però fondamentalmente quando arriva il brutto tempo, piove, neve, sicuramente è un valido alleato per non farsi male. Non fare magari lavori sul Tapirulan che diventano un po' problematici. Continueremo a fare queste recensioni e programmazioni sul mese di febbraio, marzo, aprile se, se, arriveremo a... No, nessuna visualizzazione, questo ci piace proprio. André ho comprato un piccolo... I mattoni! Una piccola serie di libri e... No, io avrei detto dei sassi qua dentro. Ascolta, i posti italiani, in quanto tempo ci sono arrivati? Mi sono arrivati una decina di giorni, forse un po' meno. Quindi Amazon regna sempre? Amazon regna sempre, ovviamente. Diciamo che... André a Biasci. Sei il peggio di mia nipote Giulia. Il libro del Project Nutrition, abbiamo letto quello del running, adesso leggeremo anche questo. Max, questo qua sarà difficile da leggere. Io non sono così grande esperto. Lui è molto tecnico e... Vabbè, vedremo. Dalla collana ti sei presa. Questo perché, Max, ci devi raccontare un cambio sport? A questo punto mi sa che a me toccherà prendere il collo sull'allenamento a corpo... Ce ne sono altri di interessanti della collana. Ipertrofia, forza corpo libero. Quindi credo che Max si metta a fare calisthenics. Guarda, apro qua. Io già ce lo vedo fare questi esercizi qua. Non so se si vedono. Max è pagina 312, se farai vedere poi. Vabbè, Eric Neri. Loro sono Project Invictus. Sono dei gran cavalli, super esperti. Abbiamo letto Running Nutrition di Marco Perugini. Era una bomba. Credo che questi proprio siano super libri anche loro, quindi... Però l'altro, se non avete ancora visto la recensione di cosa mangiare durante le vacanze, abbiamo assolutamente evitato di utilizzare i loro consigli, però va bene. Soprattutto io. Questi qua sono i disegnini di Evangelista, per di più. Non so se lo conoscete, è un bomber vero comunque del mondo del fitness. Quindi non so se dico fitness, si incazzano, però sono davvero preparati. Vabbè, grazie, grazie. Ce ne hai da leggere, Max, tra questi? Il libro di Netflix? Pensare che alle superiori, quando ti devono andare a leggere il libro, rompevi le pale durante il periodo del Natale, invece... Ma io quando ero al liceo tu non eri ancora nato, quindi... Grazie a tutti.